Così come per il vino anche per la campagna olearia, più qualità ma meno quantità. Queste ad oggi le previsioni sulla campagna di raccolta delle olive che sta per partire anche in Molise. In controtendenza con il dato nazionale che prevede un aumento della produzione di olio fino all'80% dopo il crollo dello scorso anno, in regione la produzione si annuncia con una perdita del 30% con punte che arrivano al 50% a seconda dell'area di produzione. Questa la stima della Coldiretti che però rimarca l'aumento della qualità del prodotto. Fino ad ora infatti i frutti non hanno subito come accaduto in passato attacchi da parte della mosca olearia che causa l'abbassamento della qualità dell'olio prodotto. Una diminuzione di produzione sempre secondo Coldiretti determinata da una primavera piovosa che ha ostacolato la fioritura dell'olivo. L'estate torride e secca ha fatto il resto stressando le piante. La qualità però non resterà compromessa a quanto pare. Più che alla quantità in Molise bisogna ammirare alla qualità e quanto si è sostenuto in un incontro a Isernia, alla Camera di Commercio con esperti e chi lavora nel settore, valorizzando le coltivazioni locali che hanno tutte le potenzialità per collocarsi sul mercato fra i migliori prodotti di eccellenza del made in Italy. Il tutto senza trascurare il problema sempre più diffuso dell'abbandono degli oliveti attraverso il cui recupero si innescherebbe un circuito virtuoso in grado di produrre nuova occupazione valorizzando professionalità specifiche, un esempio su tutti quella dei potatori. Rivitalizzare il settore consentirebbe di attrarre in regione anche nuovi investimenti di cui beneficerebbe tutta l'economia regionale. La Coldiretti sostiene che i tempi siano maturi per lavorare a un progetto di valorizzazione dell'olio extravergine di oliva interamente molisano, attraverso una sinergia e una collaborazione tra olivicoltori e frontoiani.